amici sportivi buongiorno di nuovo io oggi avevo in mente di fare un solo video vi dico la verità che è già uscito sul canale nel caso non l'abbiate visto andatelo a recuperare dove parlo di delict ma la bomba clamorosa riguarda cristiano ronaldo le ultime indiscrezioni che trapelano parlano di un ronaldo che a quanto pare ha già firmato per la s roma allora facciamo un sospiro vi dico sono emozionato io da juventino che non c'entro niente con questa storia perché è un colpo che ha del clamoroso io mi emoziono facilmente quando si parla di calcio perché sono una persona di cuore poi la roma è una squadra che mi sta molto simpatica per cui sarei molto felice di un trasferimento di questo tipo anche se riguarda lo stesso cristiano ronaldo che ci ha abbandonato a noi alla fine della prima giornata di campionato dello scorso campionato della scorsa stagione cioè ha del clamoroso questa notizia è qualcosa che veramente non sta nel cielo né in terra andiamo per passi piano piano la prima cosa da andare ad analizzare riguarda ovviamente le parole di un ex difensore della roma petruzzi dove dice ve lo leggo perché è da capire so per certo che la roma sta provando a prendere in tutti i modi cristiano ronaldo da limare i dettagli soprattutto i diritti d'immagine ma la cosa certa è che cristiano ronaldo lascerà il manchester united per dirlo petruzzi quindi una persona che immersa al 100 per cento nel mondo del calcio come possiamo immaginare è perché qualcosa sotto c'è di sicuro a maggior ragione vedendo le quote dei bookmakers che sono letteralmente crollate per quanto riguarda il possibile trasferimento di cr7 alla roma uniamo i tasselli la roma ha prenotato lo stadio olimpico il 29 giugno per a quanto pare presentare un grande colpo io non mi ricordo la roma abbia mai fatto una cosa del genere per nessun giocatore per prenotare l'intero stadio è perché deve arrivare un colpo super una cosa stratosferica straordinaria mai vista prima chi più di cristiano ronaldo effettivamente qui c'è qualcosa che non va ma la domanda sorge spontanea perché proprio il 29 giugno una data che comunque non ha senso diciamo ce tra quattro giorni perché proprio tra quattro giorni e qui viene fuori un altro tassello importante sono immersi degli audio tre nello specifico ma due molto molto importanti di una persona anch'essa immischiata nel mondo del calcio al 200 per cento dove dice ve li leggo anche questi perché sono molto 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 importanti ha firmato a mallorca in gran segreto ci siamo un audio dice questo un altro dice il nome è quello di cristiano ronaldo quindi prepariamoci c'è cristiano ronaldo ha lasciato il manchester si sa per motivi ovvi non fa la champions league lo united di conseguenza ronaldo vuole andare in un altro club e fino alla roma che non fa comunque la champions però unendo i tasselli unendo i pezzettini del puzzle l'olimpico è prenotato per un grande colpo per la presentazione di un colpo incredibile petruzzi parla ai microfoni di rete sport dicendo che un suo conoscente ha già praticamente detto che ronaldo ha firmato con la roma qui audio whatsapp dove dicono che ronaldo ha firmato per una nuova squadra a mallorca in gran segreto cosa sta succedendo questa è la domanda che mi pongo cioè io da gioventino lo ripeto quindi da semplice spettatore che due giorni fa ha messo un video io sul canale ho pubblicato un video dove parlavo delle notizie che si erano diffuse di neymar e ronaldo possibili nuovi acquisti della juventus ritorno di ronaldo e in comproprietà col palestino german neymar adesso mi trovo cristiano ronaldo nuovo giocatore della roma quasi fatta da quello che sta emergendo allora ragioniamo mente lucida cerchiamo di rimanere il più lucidi possibile perché così si deve fare cristiano ronaldo non ha motivi per venire alla roma o meglio non fa la champions league è una squadra che nonostante l'arrivo di matic il quasi acquisto di frattesi a uare ancora una voce non ha una rosa così competitiva per poter puntare allo scudetto parliamoci chiaro quindi sulla carta perché ronaldo dovrebbe venire alla roma i motivi sono due o il progetto della roma è così ambizioso da poter pensare nel giro di uno due stagioni di poter portare a casa un altro trofeo come è stato la conference league l'anno scorso l'anno prossimo lo scudetto la coppa italia e l'anno dopo poter poter partecipare alla champions league arrivando in questa prossima stagione almeno nelle prime quattro e quindi ronaldo dice nel giro di due anni comunque posso tornare a giocarmela secondo motivo perché alla roma comunque ci sono due figure amministratore delegato tiago pinto e l'allenatore osè murigno lo stesso murigno che ha già allenato cristiano ronaldo a real madrid quindi due si conoscono molto molto bene e hanno un rapporto solido consolidato nel tempo tra l'altro il procuratore lo stesso orge mendes per cui anche qua si gioca una fetta importante di questa trattativa su queste piccole cose piccoli dettagli ma che fanno la differenza ragazzi questo potrebbe essere un colpo clamoroso ma clamoroso clamoroso dire poco e vi parlo da juventino lo ripeto perché so che magari è difficile entrare nell'ottica della sportività ma io sono fatto così c'è cristiano ronaldo alla roma è forse qualcosa di ancora più assurdo di ronaldo alla juve perché la juve comunque di campioni campionissimi ne ha avuti nella sua storia la roma adesso non me ne vogliate però totti ok falcao ok battistuta ok dei rossi però non è una squadra che ha avuto giocatori del calibro di ronaldo il fenomeno platini messi gult van basten giocatori di questo tipo ragazzi cristiano ronaldo ok è un ronaldo che a breve spegnerà le sue 38 candeline quindi a fine carriera possiamo dirlo ormai però è un colpo è interessante bello è sconvolgente ecco questa è la parola giusta sconvolgente posso dire la verità ci spero io lo rivedrei volentieri cristiano ronaldo in italia in una piazza come roma che sappiamo essere se non la più calda una delle tre più calde d'italia bello 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 io vi ringrazio per l'attenzione non vedo l'ora di sapere le prossime novità i prossimi aggiornamenti su questa trattativa chi ha del clamoroso vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel pollicione in su per questo video attivate la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti commentate qua sotto se voi avreste mai pensato immaginato creduto ad un possibile trasferimento di questo tipo alla roma come cristiano ronaldo cr7 il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del calcio bello 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 mi piace veramente tanto basta vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo prossimamente con un nuovo video per cui non perdetevi buona giornata conto